Per la ventitresima giornata nazionale di raccolta del farmaco, il Banco Farmaceutico invita i cittadini a mettersi una mano sul cuore per fare un'opera caritatevole. Come in tutta Italia, la raccolta si svolge anche nella provincia pesarese dal 7 al 13 febbraio in 49 farmacie del territorio. I volontari del Banco saranno presenti solo sabato 11 febbraio e tutto ciò che sarà ricevuto verrà donato a 29 realtà locali che si prendono cura dei più bisognosi. Basterà andare in una delle farmacie che espone la locandina, che vedete anche qua, per entrare e donare un farmaco necessario all'ente a cui è abbinata la farmacia. Quindi andrete pure dal farmacista che vi indicherà. Sono farmaci senza obbligo di ricetta medica, per cui da automedicazione, quindi sciroppi per la tosse, aspirina, integratori di ogni genere, insomma. Quindi ci sono proprio queste esigenze primarie, non chiaramente per patologie. Nel 2022 sono state raccolte a Pesaro 3.200 confezioni per un valore di 26.000 euro che hanno contribuito ad aiutare 1.300 persone di 30 enti. Un aiuto grande che il Banco Farmaceutico ricorda con fiducia in virtù di un contributo importante anche per quest'anno, nonostante le maggiori difficoltà economiche che ha riscontrato la popolazione italiana negli ultimi anni. Ogni anno anche noi che ci lavoriamo in quest'opera diciamo il nostro sì, per cui io spero proprio che anche la gente si metta una mano sul cuore. Capisco le difficoltà della popolazione, di tutti in questo periodo, però c'è veramente gente che deve decidere se comprassi un farmaco piuttosto che comprassi da mangiare.